Ciao a tutti cari amici del Taroman, eccoci qui pronti insieme per questa rubrica, un messaggio degli angeli che a voi piace tantissimo, è sempre una rubrica interattiva in cui dovete scegliere fra una delle tre varianti proposte e grazie agli oracoli e tarocchi degli angeli andiamo a scoprire i messaggi che vogliono darvi appunto queste entità per il prossimo periodo, ok? Quindi focalizzatevi su queste tre immagini che rappresentano le tre varianti, la variante numero uno l'eremita, la variante numero due il carro, la variante numero tre il bagatto, ecco qua, quindi capite qual è la vostra scelta, non pensateci troppo ma agite distinto, numero uno l'eremita, numero due il carro, numero tre il bagatto e ovviamente cominciamo con la variante dell'eremita. Eccoci qui amici della variante numero uno dell'eremita, allora, incominciamo a pescare la prima carta e vediamo di leggere il messaggio connesso a questa carta. Allora, carta numero uno dell'eremita. guardiano di abbondanza. È un momento di grandi successi. Tutti i tuoi progetti sono benedetti e procedono senza intoppi. Nel prossimo futuro si presenteranno opportunità di lavoro inaspettate. accettere senza esitare. Questa carta indica che nella situazione è coinvolto qualcuno con una carriera incredibile. Si tratta di una persona potente, di grande integrità, a cui piace lavorare sodo. Questa persona potresti essere tu. Quindi, gli angeli vi stanno dicendo che nel breve periodo avrete un trionfo, un successo. Anche dal punto di vista progettuale sicuramente le vostre creatività, le vostre creazioni, immaginate, i vostri progetti sono appunto baciati dalla fortuna e sicuramente procederanno senza ostacoli. Quindi, anche se stavate vivendo una problematica, soprattutto dal punto di vista di questioni economiche e progettuali, gli angeli vi dicono di non preoccuparti perché anche dal punto di vista lavorativo, per chi è senza lavoro, si presenteranno delle opportunità di lavoro inaspettate. È importante accettarle senza esitare. Ok? Quindi, qua potreste anche avere una bellissima carriera per coloro che hanno scelto la carta dell'eremita. Ok? Quindi, tanta tanta roba. Ma andiamo avanti con i tarocchi di Dorin Birciu. Vediamo un attimino cosa voglio dirvi. Il 10 d'aria. Fine di una situazione difficile. Accogli il cambiamento. Le cose adesso andranno meglio. Guarire da una dipendenza. Beh, sicuramente queste sono carte, e anche questa è una carta interessante. Qui è tempo comunque di accogliere il cambiamento. Ok? Se avete vissuto una fase della vostra vita difficoltosa, non preoccupatevi perché qua sicuramente c'è una fase di trasformazione in positivo. Dovete ancora un attimino pazientare, però siete di fronte a questo 10. Quindi siete di fronte all'ultima carta numerica. E c'è proprio la fine di un periodo critico. La fine di un periodo difficoltoso. E anche per coloro che soffrirono di una dipendenza, che ovviamente possono essere dipendenze legate al cibo, all'alcol, al sesso, al fumo, eccetera, eccetera, riuscirete a guarire. Quindi cercate comunque conforto e sostegno di energie angeliche e arcangeliche perché qui sicuramente questa situazione si sbloccherà. E ci sarà proprio un cambiamento importante nella vostra vita. Ok? Andiamo avanti con le altre carte, sempre per quanto riguarda le energie angeliche. Vediamo cosa vogliono dirvi le carte. Abbiamo la carta dell'entusiasmo. Hai bisogno di una carica di vitalità e di felicità. Comunque questa è una carta verde speranza. Sarete maggiormente entusiasti di voi stessi, di quello che andrete a creare proprio durante questo breve periodo. E sarete maggiormente vitali, attivi, quindi pronti per entrare in azione e sicuramente avrete il sorriso sulle labbra. Ok? Vediamo ora di andare avanti con queste altre carte. Vediamo quali angeli o arcangeli vi, diciamo, guideranno. E vediamo il messaggio sempre della carta. Ok, abbiamo l'angelo Acaia. Il dono da lui dispensato è perseveranza per scoprire segreti della natura. Qui sicuramente sarete maggiormente perseveranti, maggiormente combattivi e potreste avere a che fare con una figura del toro. Quindi un uomo, una donna, è nato dal 21 aprile al 21 maggio. Con il quale magari vi approccerete durante questo breve periodo. proseguiamo, vediamo un altro messaggio, che sono due carte collegate. Ok, questa, la prima carta è già caduta. È un messaggio angelico. Vediamo, eh. Per la variante numero 1, dell'eremita. Ok, allora, io sono l'angelo che scende per aiutarti a rinascere. Quindi simbolo di rinascita, di rinnovamento. Fai un respiro profondo, senti come batte forte il tuo cuore. Ora stai ricevendo energia dal cielo. Stai cambiando, quindi c'è proprio una fase di cambiamento, l'avevamo visto già con questo 10 d'aria. E rinasci con forza e fermezza. Infatti, abbiamo visto che sarete maggiormente perseveranti, andrete dritti verso l'obiettivo. Sarete maggiormente fermi e decisi sulle vostre convinzioni. E sicuramente la forza di reagire non vi mancherà. Quindi, veramente, in bocca al lupo, variante numero 1. Eccoci qui, cari amici, della variante numero 2, per coloro che hanno scelto il bagatto. Benissimo. Incominciamo a capire quali sono le energie angeliche, quali messaggi vogliono darvi, vogliono offrirvi gli angeli, gli arcangeli. Peschiamo la prima carta, quindi variante 2, la variante del bagatto. Vediamo, eh. Per chi volessi fare un consulto privato con me, vi lascio sotto tutte le informazioni, eh. Allora, vediamo. Primo messaggio. Asso di emozione. Questo che è Rubino annuncia una nuova, magnifica esperienza emotiva. Quindi, in alcuni casi, farete un nuovo incontro o comunque una nuova fase molto più bella e molto più, diciamo, equilibrata, da puntista emotivo, nei vari rapporti interpersonali. Soprattutto, ovviamente, se andrete a vivere o se vivete una relazione d'amore. Forse, incontrerai qualcuno che ti farà battere forte il cuore o la tua relazione attraverserà un nuovo aumento magico. Quindi, sicuramente qui con questo asso di emozione, questo Cherubino, c'è comunque una fase molto molto positiva nei vostri rapporti, eh. E' possibile anche che, aprendo il cuore, le tue capacità di intuizione aumentino notevolmente. Quindi qua, magari, sarete maggiormente sensibili e intuitive. E farete proprio leva sulla vostra intuizione, ok? Ma andiamo avanti con i tarocchi di Dovim Birchu. Vediamo un attimino cosa vogliono dirvi per la variante numero due, i tarocchi di Dovim Birchu. Quindi, comunque sia un periodo molto molto intenso da puntista emotivo e, ovviamente, anche da puntista relazionale. Abbiamo la sacerdotessa, Arcangelo Haniel. Segui il tuo intuito. Quindi, ancora una volta, intuito, istinto, che vi aiuteranno a rispondere alle vostre domande e, comunque sia, a risolvere una determinata situazione. Questa carta vi invita ad essere pazienti, ad agire con moderazione, con calma, a non avere fretta, a seguire comunque i segnali che vi offrono gli angeli e gli esseri di luce. Rifletti attentamente su ciò che vuoi prima di agire. Quindi è importante attuare proprio una fase di riflessione. Dovete riflettere molto prima di entrare in azione. Ovviamente, questa cosa può riguardare vari ambiti della vostra vita. Siate comunque concentrati, mi raccomando, e non buttatevi così a capofitto di punto in bianco. Ma andiamo avanti con la terza carta, sempre legata all'energia angelica. Vediamo. Qua è un periodo in cui vorrete conoscere maggiormente voi stessi e le altre persone. Progresso, carta 21. Sei sulla buona strada. Quindi qui ci potrebbe essere comunque un progresso, una fase di avanzamento, qualcosa che aumenta, una fase di espansione. Qua la carta numero 2, cioè scusate, qua la carta numero 2, qua c'è il numero 21. Quindi comunque sono energie legate al 2 ma anche al 3. Quindi questi potrebbero essere anche dei numeri importanti durante questo periodo. Ma proseguiamo con un'altra carta. Vediamo qual è il vostro angelo o arcangelo che vi guiderà durante questo periodo. Vediamo anche il dono da lui dispensato. Vediamo per la variante numero 2, per il bagatto. Abbiamo l'angelo Izzalella e il dono da lui dispensato è la fedeltà. Quindi sarete maggiormente fedeli a voi stessi. Sarete fedeli nei confronti comunque delle altre persone. Qui potreste incontrare o approcciarvi con un uomo, una donna ed essere uno dei gemelli. Quindi una persona nata dal 22 maggio al 21 di giugno. Non è detto però potrebbe comunque esserci un approccio con questa tipologia di persona. Quindi qua c'è proprio il dono della fedeltà. Essere fedeli. Ma essere fedeli anche ai vostri ideali. Quindi se avete in mente un qualcosa, non siate frenati. Magari anche dal giudizio altrui. Mandate comunque e seguite la vostra strada. Quindi non abbandonate la vostra strada. Ok? Andiamo avanti nel capire altri messaggi con la frase legata all'energia angelica e arcangelica. Vediamo un attimino la frase per voi amici della variante numero 2 del bagatto. Ok, la prima carta l'ho presa. Prendiamo anche la seconda che è sempre in collegamento con la prima. Ok. Perfetto. Vado a leggervi la frase annessa. Io sono l'angelo che scende quando hai bisogno di liberarti dalla negatività. Dovete liberarvi quindi da tutte quelle situazioni negative, da tutte quelle situazioni tossiche. Mi raccomando, eh. Decidi di vivere con la luce e tutto cambierà. Io ti do forza e protezione curandoti con sicurezza e fiducia. Quindi sicuramente sarete maggiormente fiduciosi e sicuri in voi stessi. E tutto questo sicuramente vi aiuterà anche ad approcciarvi agli altri in maniera comunque più consona. Ok? Quindi non perdete mai la fiducia in voi stessi perché questa vi accompagnerà lontano. Ok? Benissimo e questa era la variante numero 2. Ma eccoci qui, carmici e amiche, giunta la variante numero 3 per coloro che hanno scelto il carro. Incominciamo a capire quali sono le energie angeliche e arcangeli, quindi quali sono i messaggi che vogliono offrirvi le guide. Vediamo, eh. Vediamo un attimino per la variante numero 3. Se volete un consulto privato vi invito a contattarmi in privato o tramite la mail oppure i contatti qui sotto nel box informazioni. Variante 3 del carro, vediamo il primo messaggio per voi. Abbiamo una carta dell'aiutante di azione. Cosa vuole dirvi questa carta? Avere molti magnifici progetti da realizzare è una benedizione. Sarebbe fantastico se potessi prima panificare ogni cosa, ma i tempi sono davvero troppo stretti. Quindi qui potreste fare più cose contemporaneamente e non avete tutta quella, diciamo tutta quella tempistica, tutto quel tempo per pensare a come fare, cosa fare, cosa non fare, come agire, cosa dire. Perché i tempi comunque sono davvero troppo stretti. Ok? Quindi avete pochissimo tempo per realizzare quello che volete realizzare. Quindi, come ho scritto qua, datti da fare. Segui l'istinto e divertiti. Tu o qualcuno che incontrerai, sei molto sicuro di te, capace ed entusiasta e riesci a fare tutto con il sorriso. Quindi sicuramente siete delle persone sorridenti, siete delle persone che sicuramente mettono entusiasmo e passione in quello che fanno. Quindi dovete andare avanti con questo entusiasmo che vi contraddistingue. Ok? Perché è molto importante. Perché anche il fatto di prendere con maggiore spensatezza le varie fasi della vostra vita, sicuramente vi aiuterà a assumere il giusto approccio per realizzare comunque un obiettivo o comunque sia per andare verso quel traguardo. Ok? Ma proseguiamo con i tarocchi di Dore in Birciu. Vediamo cosa voglio dirvi per la variante numero 3 del carro, eh. Variante 3 del carro, variante 3 del carro. Abbiamo la carta del 9 d'acqua. Il tuo desiderio si avvera. Quindi, bellissima carta. Quindi, desideri che si avverano, sogni che si avverano. I problemi svaniscono amore per la vita. Quindi, sicuramente, amate la vostra vita. Amate la vostra vita per quel che ha nei momenti comunque più felici, ma anche nei momenti di tristezza, perché anche quelli fanno comunque crescere. Ma, mi raccomando, siate sempre fiduciosi in voi perché i problemi stanno svanendo. Ed è un periodo più equilibrato quello che affronterete durante i prossimi mesi. Ok? 9 d'acqua è una carta veramente molto molto bella. Quindi uscirete anche un po' allo scoperto. Vi farete anche conoscere maggiormente dalle altre persone. Ok? Ma vediamo la terza carta. Sempre legate alle energie angeliche. Per voi del carro. Variante numero 3. Vediamo, eh. Abbiamo la carta della sincerità. Quindi, guardati all'interno. Sii sincero. Non nasconderti dietro un spillo. Non nasconderti, soprattutto, cioè, verso la tua vera essenza. Perché alla fine, volente o non ente, la tua vera essenza, la tua vera identità, prima o poi comunque uscirà allo scoperto. Quindi è importante sicuramente essere sinceri, ovviamente non solo con voi stessi, ma anche nel rapporto con le altre persone. Quindi, guardatevi dentro e dite quello che avete da dire agli altri. Ok? Ovviamente, in primis anche a voi stessi. C'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che dovete cambiare? C'è qualcosa che dovete affrontare? Bene, fatelo. Con, comunque, sincerità e anche con, diciamo, quel sano divertimento che sicuramente non guasta. Ok? Ma proseguiamo con la carta numero 4, eh. Vediamo un attimino l'energia angelica e arcangelica. Vediamo l'angelo guida che dovete portare con voi durante questo periodo. Vediamo un attimino per la variante numero 3. Abbiamo l'angelo imamia. E qual è il dono dallo dispensato? Superamento delle difficoltà, distrugge la potenza dei mici e protegge durante i viaggi. Benissimo. Una carta, quindi un angelo molto molto bello. Perché sicuramente vi sta a dire che supererete comunque le difficoltà. E infatti, come abbiamo visto poc'anzi, i problemi comunque svaniranno. Ok? Qui se avete dei nemici, probabilmente questi nemici riuscirete ad allontanarvi. E se dovrete fare un viaggio durante questo periodo, sicuramente questo angelo imamia vi proteggerà. Per farvi fare proprio un bel viaggio. Ok? Ma adesso terminiamo la seda con un altro messaggio, un'altra frase che voglio darvi di essere di luce. La prima carta è caduta. Vado a pescare la seconda carta che è sempre connessa alla prima. Vediamo, andiamo a leggere il significato. Variante numero 3. Variante numero 3. Ok. Allora, vado a leggervi la carta. Io sono l'angelo che scende per consigliarti. Devi calmarti e riflettere. Aspetta. È il momento che ti faccia una pausa. Ti do la mia energia che illumina la situazione. E ora è il momento giusto di procedere con coraggio e decisione. Quindi qua sicuramente affronterete con fermezza, con decisione, una determinata situazione. E quindi, come ho detto prima, sicuramente queste sfide che magari dovrete affrontare o che avete affrontato già, le supererete a testa alta. Quindi sono messaggi molto, molto confortanti per voi della variante numero 3. Benissimo cari amici, queste sono le vostre varianti. Vi aspetto sempre qui sul Tagon Man. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.